E' stato rimosso e posto sotto sequestro dalla magistratura veneziana il motoscafo offshore semi-affondato ieri verso le 21 dopo essersi schiantato contro la lunata della bocca di porto del Lido di Venezia. Con la punta diciamo della prua emersa dall'acqua e tre quarti dello scafo sommersi su un fondale che lì è di circa 10 metri. Città in lutto oggi per la morte dei tre piloti con il pluricampione già mondiale Fabio Buzzi, 76 anni, considerato designer degli scafi da corsa e guru dell'offshore, Luca Nicolini e il pilota britannico Eric Horm, tutti morti dopo aver raggiunto l'ambito record del mondo di percorrenza della Monte Carlo Venezia in meno di 19 ore senza sosta. Terribile la scena presentatasi ieri ai sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno faticato non poco a recuperare i corpi prive di vita dei piloti, come racconta lo stesso capo squadra intervenuto sul logo della tragedia. I tre componenti mancanti erano nel vano, nell'abitacolo di pilotaggio del motoscafo, sott'acqua assolutamente a una profondità di circa 5 metri e mezzo. L'unico supersite Mario Invernizzi, titolare dell'obonimo azienda di rivestimenti e materiali dili, nell'impatto è stato sbalzato sugli scogli e soccorso, si trova ancora ricoverato in ospedale a Venezia con gravi traumi, tra cui quello più serio, quello toracico, imprenditore che stamane è stato raggiunto dalla moglie Raffaella. Procure e capitanerie di Porto indagano su quanto è accaduto per ricostruire la dinamica della tragedia dovuta forse a un malore, alla stanchezza, a distrazione o anche all'alta velocità. Sì, la velocità, soprattutto in prossimità di un porto, una velocità così elevata è comunque molto rischiosa. Lì è una zona particolare di approccio al porto perché vi sono queste lunate, che sono queste dighe forane di supporto a tutta l'opera del Mose che si trova nelle bocche di porto e che in condizioni di oscurità rendono molto difficile l'atterraggio al porto perché si incrociano molte luci di accesso, verdi, rosse. Se non c'è una certa praticità e una certa conoscenza della zona ci si può sbagliare e imbucare la strada sbagliata.